Adriano Stella di ritorno dall'Olanda, commentiamo questo importantissimo risultato, anzi doppio importantissimo risultato la qualificazione per le Olimpiadi e poi anche il bronzo per Niccolò Renna e il quarto posto per Luca Di Tommasi è stata una spedizione che per fortuna o per bravura ha rispecchiato le aspettative ci presentavamo da campioni europei quindi era importante continuare la seriscia di buoni risultati tenuta negli ultimi due anni è stato un mondiale sicuramente molto difficile perché il posto è completamente diverso dalle condizioni che abbiamo in Mediterraneo ma anche qua a Civitavecchia quindi è servito tanto adattamento ma già avevamo fatto allenamenti l'anno scorso e quest'anno il logo proprio per studiare correnti e quant'altro devo dire che i ragazzi sono stati molto bravi, ineccepibili in tutta la settimana non lasciando sbavature sul campo di gara con un atteggiamento vincente che la classifica rispecchia vi state confermando molto a livello internazionale come dimostra la terza medaglia consecutiva per Niccolò Renna e poi per quanto riguarda Trenostella possiamo dire che Civitavecchia si conferma molto nelle Olimpiadi per la quarta Olimpiadi consecutiva Civitavecchia era proprio rappresentante sul campo di legata siamo una bella città di mare e secondo me una bella tradizione che spero che si porti avanti quando smetto di fare questo lavoro speriamo che ci sia qualche altro Civitavecchiese che nel mondo del windsurf si affaccia all'esperienza olimpica rimane un anno, 337 giorni se non sbaglio all'apertura delle Olimpiadi di Parigi ci presenteremo da protagonisti da confermare sul campo ci sono molte aspettative, entrambi i due ragazzi sono entrati a far parte del club olimpico grazie al risultato del mondiale quindi rientreranno in un programma di probabili medagliati ci saranno dei budget apposta e dei programmi specifici proprio per provare a rincorrere la medaglia che proprio da quattro Olimpiadi non riusciamo ad agguantare in altri sport abbiamo ancora negli occhi la medaglia d'oro di Gianmarco Tamperi nell'atletica e nelle sue dichiarazioni ha affermato io sono andato sul podio ma questa è una medaglia che ha vinto tutta la squadra tutti quelli che sono dietro di me, anche per voi la stessa cosa Nicolò ha vinto il bronzo però c'è tutto un circondario c'è tutto un gruppo che permette ai ragazzi, anche a Luca Di Tomassi di potersi esprimere al meglio a livello mondiale su questo c'è da ringraziare la federazione italiana vela e l'Italia team del CONI che ci mettono comunque nelle condizioni migliori per provare a essere al passo con i vertici dello sport la medaglia di Tamperi come una medaglia a un campionato del mondo dietro a un mondo un mondo vero fatto di piccoli dettagli e in questo la squadra italiana è risultata molto solida avendo un terzo e un quarto posto al mondiale è la nazionale più forte al momento quindi alla fine la classifica certifica il buon lavoro fatto e secondo me i compiti a casa questa volta li abbiamo fatti bene adesso ci sono due settimane di ferie meritate per tutta la squadra e poi si riprendono gli allenamenti probabilmente ho un'idea di tornare a Civitacchi a fare qualcosa un po' per portare a casa la nazionale, fa sempre piacere